I carabinieri della stazione di Villasmundo hanno arrestato un pregiudicato 33enne catanese per aver più volte violato le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto presso la frazione melillese per aver commesso una serie di rapine nella provincia di Bologna. L'uomo infatti è stato più volte sorpreso dai militari dell'arma mentre tranquillamente passeggiava per le vie cittadine con il cane di famiglia e con in braccio il figlio minorenne. In un'occasione, prima di allontanarsi da casa, aveva comunicato falsamente alla centrale operativa della compagnia di Augusta di essere rientrato da lavoro, ma in realtà i carabinieri lo hanno sorpreso in giro senza giustificazione. Pertanto, dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso il carcere di Cavadonna così come disposto dalla Corte di Appello di Bologna.